Le tanto attese nomine degli assessori della giunta di Torre del Greco hanno delineato il nuovo percorso e l'esecutivo di Palomba. Rimane esclusa dalle deleghe la federazione, raggruppamento di otto consiglieri che hanno preso le distanze dalla maggioranza dopo l'azzeramento disposto dal sindaco. Fra questi Salvatore Gargiulo, che alle nostre telecamere ha rilasciato prime considerazioni sulle recenti nomine. Come nasce questa federazione? Questa federazione nasce solo ed esclusivamente per dare una mano forte alla città. Non nasce, sono sicuro e convinto, sotto forma di ricatto, sotto forma di nessun scopo. Nasce solo per il bene della città. Sono nate delle incomprensioni, quindi penso che secondo me un po' dall'altra e dalla nostra parte non ci siamo forse troppo capiti. È stato fatto un nuovo esecutivo. Quando viene nominata una nuova giunta sono tutti bravi. Bisogna vedere dopo quello che riescono a fare. Io mi auguro che riescono a fare. Però non mi voglio prolungare più di tanto perché non so le cose come andranno a finire. Diciamo, siamo ancora in una fase di non scontro, di trattative. Non lo so, non so come spiegare la cosa. Io mi auguro che tutto si risolva più presto. Magari, ma non per me, non per i consiglieri, ma per la città. Niente di dare, di mandare un messaggio ai cittadini. A volte a noi ci condannano le leggi. In Italia sono sbagliate le leggi perché tu vorresti fare tante cose. Ti spiego. Ci stanno a fiorire da una parte e la vuoi spostare a un'altra. Sono delle leggi che non ti permettono. Quello che puoi fare tu. Bisogna fare tutto in ITER. E quindi è il sistema che secondo me è sbagliato delle leggi. Diciamo che stanno in Italia come stanno attualmente stanno dappertutto. E quindi a volte non ci permettono di fare tante cose. Io certamente da consigliere, da cittadino torrese, mi auguro che si risolva tutto. Attesa invece per la delega alla nettezza urbana, che dovrebbe essere affidata ad una persona scelta dai consiglieri leghisti Mele e Buono. Ci è stato chiesto se avessimo a cuore le sorti della nostra città. Abbiamo risposto i sì, ma a condizione di risolverne i problemi. Così hanno commentato la loro partecipazione al nuovo esecutivo. La scelta dovrebbe ricadere su un professionista esperto nel settore. I consiglieri si sono dati un ultimatum. Se in sei mesi non riusciremo a risolvere la questione rifiuti, annunciano, siamo pronti a rinunciare all'incarico.